Questa mattina al Parlamento europeo l'audizione di Valdis Dombrovskis, designato vicepresidente della Commissione in diretta da Bruxelles, c'è Alberto Romagnoli. Sì, buongiorno da Bruxelles. L'economia europea non vive un momento come gli altri e questa è la ragione per cui il futuro vicepresidente della Commissione, possiamo vedere le immagini dell'audizione, ha avanzato alcune proposte innovative come la creazione di un quadro comune per il salario minimo e un fondo per aiutare le piccole e medie imprese a quotarsi in borsa uno strumento che sarebbe utile per aiutare a trovare i mezzi per affrontare la svolta verde che è uno degli obiettivi della nuova Commissione. Sappiamo che Dombrovskis è considerato uno dei falchi dell'austerità però adesso apre la porta a una semplificazione, non la definisce così, piuttosto che a revisione del patto di stabilità e crescita. Continueremo a usare la flessibilità, spiega l'ex primo ministro Lettone, ma dice attenzione, i paesi con l'alto debito debbono continuare a ridurlo. E con questo da Bruxelles è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie, segnali di recupero.